Rembrandt. Il suo nome è sinonimo di capolavoro e questo è forse uno dei suoi più grandi dipinti. Un'opera iconica di individui che mettono da parte le loro divergenze per un bene comune. Ma ciò che vediamo non è più ciò che vedeva la gente secoli fa. Il modo in cui vediamo cambia perché i nostri sensi si stanno evolvendo. I Sense8 per loro natura sono una minaccia alla segretezza. Sto cercando un futuro migliore. Che sta succedendo? Devi impedirlo. Non fidatevi di nessuno di loro. Questo non è un gioco, questa è una guerra. La tua vita può essere definita dal sistema o dal modo in cui sfidi il sistema. Finché saremo insieme, non c'è niente che non possiamo fare. Io chi sono? Io chi sono? Io chi sono? Credi di darci la caccia? Stiamo venendo a prenderti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.